Le linee guida della nuova variante al PGT presentata di recente dalla giunta del Bono, che dice basta a nuovo cemento ma corre nella direzione del verde ed è riutilizzo, prevede infatti il recupero delle zone ex-industriali, la rigenerazione degli edifici storici e l'ampliamento della zona verde di Monpiano, con successivo rifacimento del Regamonti. Ma le polemiche in attesa della discussione in consiglio di domani sono già cominciate, perché l'opposizione ha annunciato ostruzionismo con la presentazione di decine di emendamenti, perché la giunta che sta sbagliando non avrebbe coinvolto nemmeno i cittadini nelle scelte che li riguardano. La risposta della maggioranza non si è fatta attendere e conta sul buon senso di chi dovrà giudicare, perché il nuovo piano sviluppa temi talmente importanti che sono ritenuti condivisibili da tutti. Insomma la battaglia a suon di dichiarazioni è già cominciata e da domani si trasferirà nelle sale del Palazzo. Secondo il Sindaco infatti sono docenni che un piano urbanistico non si basa su nuovo consumo di suolo, addirittura dal 1946. E il sistema che intende adottare il primo cittadino per non andare incontro a problemi di svuotamento demografico dalle zone interessate passa appunto attraverso la rigenerazione urbana dei quartieri, senza intaccare aree verdi e terreni. Dunque verranno riportate a nuova vita strutture già esistenti, senza nuove colate di cemento. I piani terra degli edifici storici, ad esempio, snellendo le pratiche burocratiche, potrebbero diventare nuovi spazi commerciali o direzionali. E sono diversi i palazzi interessati. Poi, per quanto riguarda il quartiere e dallo stadio, saranno parecchie le novità, perché in attesa del rifacimento l'obiettivo del Comune sarebbe quello di ampliare la zona verde dal Parco Castelli fino alle porte del Rigamonti stesso, incorporando la piscina. Inoltre, a differenza del passato, sarebbero previste zone verdi in piazzale vivanti, cancellando la realizzazione di nuovi edifici, la cui progettazione aveva già provocato una rivolta dei residenti, che avevano manifestato il loro dissenso anche attraverso una raccolta firme. Il nuovo PGT dunque naviga già nelle polemiche.